Siamo qui in zona Navicelli sul punto di rottura della tubazione da 800 che sta creando disagi ma da due giorni. Questo che vedete è il nuovo tubo pronto ad essere installato all'apposto di quello vecchio dove adesso gli operai ASA stanno continuando a lavorare questa notte siamo vicino alla zona del cantiere per farvi vedere lo stato dei lavori. La buca è finalmente messa da stanotte, è messa in sicurezza senza acqua. Quello che vedete è il tubo che si è rotto e questo blocco di cemento è quello che ha causato il danno maggiore franando e smottando quindi cambiando gli assetti delle tubature. Adesso dovranno rimuovere questo blocco portare via il tubo vecchio per poi sostituirlo con quello nuovo che vi ho fatto vedere poc'anzi per poi ricementificarlo. Da ASA garantiscono che questa operazione consentirà intorno alla mezzanotte di riavere l'acqua in tutta Livorno. Come vedete gli operai sono a lavoro, stanno cercando di assicurare ancora più gli argini dei navi celti, quindi stando a quanto garantisce ASA a mezzanotte l'acqua sarà nuovamente nelle case dei Livornesi.